E' partita ufficialmente da qui la stagione del Milan, ha targato 2015-2016 con la presentazione di Mijailovic e c'erano anche Berlusconi e Gagliani. Un anno di fuochi d'artificio, visti anche i voti sul mercato e soprattutto le dichiarazioni del presidente che non si è nascosta, detto voglio gli a Champions League, nello stesso parere anche il nuovo allenatore del Milan, sarà sicuramente una stagione entusiasmante.